L'andrangheta ha un organigramma preciso, ma da comprendere fino in fondo. Questo è quanto emerge dalle indagini dell'operazione Mandamento Ionico, l'inchiesta che ha arroventato l'estate e coinvolto centinaia di indagati, molti dei quali con l'accusa di associazione mafiosa. Si tratta di un connubio di nomi e articolazioni emersi da alcune intercettazioni datate 15 aprile 2010, captate all'interno dell'abitazione utilizzata dal Sanluchese Giuseppe Pelle, classe 60 alias Gambazza, e contenute in un capitolo del fermo dedicato alla precisazione sulla struttura dell'andrangheta. Il dialogo contenuto all'interno del fermo riguarda alcune diatribe fra la locale di Palizzi e quella di Spropoli, quando ci sarebbe stata l'ipotesi di azzeramento della seconda. Un tale Morello avrebbe dunque detto a Pelle «Ci portiamo tutti in condizione, maggiore e minore diciamo», mentre il boss Sanluchese rispose «Le cose si devono discutere nel locale e si deve trovare un accordo nel locale proprio che ha le situazioni». Per gli inquirenti non ci sarebbero dubbi, i due stavano discutendo di problemi attinenti a una struttura territoriale che a livello ordinativo di locale ed è articolata a sua volta. Da quanto emerge dalle intercettazioni, infatti, il termine locale indica un'organizzazione territoriale anche di ridotte dimensioni e risulta articolata secondo lo schema della doppia compartimentazione, ovvero società maggiore e società minore, che indicano rispettivamente l'insieme di affiliati di una determinata struttura udote.